E amici e amiche ci troviamo per parlare del caso di Alice Neri. Ora dovremo parlare bene di questo caso perché sapete la notizia di oggi che il tribunale di esame si è pronunciato e in effetti Mohamed Khalul come era ampiamente previsto resta in carcere. Ora si attendono le motivazioni, l'avvocato ha detto che si attendono le motivazioni che non arriveranno subito, ci sono fino a 45 giorni per conoscerli. Ora certamente non si poteva aspettare niente altro che questo perché gli elementi ci sono, per carità gli elementi indiziati ci sono, ora ciò che si poteva portare eventualmente a una scarcerazione è che non ci fosse né inquinamento di prove né pericolo di reiterazione del reato e fin qui ci siamo perché l'inquinamento delle prove non credo che può avvenire ormai né che lui vada a reiterare di nuovo lo stesso delitto ma il pericolo di fuga credo sia alla base delle motivazioni perché una persona come lui anche con decreto di espulsione come tutti questi regolari che stanno in Italia certamente facilmente e teoricamente può far perdere le tracce quindi gli elementi indiziati ci sono per cui è su questo aspetto che si baserà l'ordinanza del riesame che ovviamente non è un tribunale che decide della colpevolezza ma decide soltanto sulla istanza cautelare cioè sulla carcerazione o meno quindi per chi si intende di queste cose la situazione è chiara quindi credo che questo caso continui ad essere di non facile soluzione lo stesso avvocato Chini si dice comunque meravigliato avendo letto insomma le carte che insomma ci sia ci sia stata questa decisione è convinto delle sue argomentazioni ed è convinto che non si sappia assolutamente il motivo della morte di Alice e quindi un cosiddetto movente ora perché dico che sarà difficile dimostrare la colpevolezza di questa persona perché al di là della discussione sul movente che non si riesce a capire quale possa essere cioè di questo giovane che a un certo punto sale in auto per un cosiddetto passaggio e poi non si sa che cosa possa succedere al punto non solo di dare la morte a questa ragazza ma addirittura l'esigenza di incendiarne il corpo ma perché dico che sarà difficile dimostrare la colpevolezza perché c'è tutto un contorno intorno a questa questa ragazza che rende rende quella notte tragica una notte misteriosa perché non ci troviamo davanti a una persona che è stata assalita come ahimè spesso succede nelle nostre città ma ha un percorso diverso abbiamo una serata infinita con questo suo amico Marco che con il quale stanno seduti insomma fuori ben sette ore abbiamo questo amico Marco che dopo sette ore se ne va lasciandoli in una situazione apparentemente di pericolo che rifiuta di rispondere alle domande degli inquirenti sul contenuto della serata che non risponde né si fa sentire dalla famiglia di Alice che ha un atteggiamento appunto di quasi di fuga da questa sua realtà e questo è diciamo sempre stato un qualcosa di misterioso e di inquietante direi ma non è il solo aspetto critico della situazione abbiamo anche un aspetto critico relativo all'ambiente di lavoro dove nessuno diciamo dei colleghi si è fatto vivo a livello di solidarietà umana né tantomeno l'azienda ci sono stati c'erano delle situazioni all'interno dell'azienda poco chiare persone che avevano un certo tipo di rapporto da insomma approfondire con Alice chi veniva chiamato il confidente che aveva una certa attenzione particolare qualcuno che l'aveva infastidita insomma c'erano delle cose che si inserivano in una situazione di questa ragazza che era forse un po' in crisi anche con se stessa perché è emersa in me anche un menage matrimoniale non del tutto sereno diciamo così non del tutto tranquillo poi quando dalle analisi emerge pure insomma questa circostanza dell'assunzione della cocaina bene l'affare si complica perché dipende da come è stata fatta questa analisi perché ad esempio se la sostanza fosse stata trovata nei capelli allora lì si accumula anche a distanza di tempo quindi mentre invece sei nei tessuti solo per pochi giorni quindi ciò sarebbe utile sapere per vedere se l'assunzione di questa sostanza fosse un fatto occasionale casuale o se la ragazza avesse una sorta di abitudine all'assunzione perché purtroppo la cocaina potrebbe essere alla base anche di quello che è successo quindi alla fine tanti sono i dubbi che girano intorno a questo caso qua dal primo momento oltretutto il momento di Galù dal primo momento prima che si sapesse che lui insomma prima che venisse ad essere stato insomma prima di tutto lui ha ammesso dal primo momento che ti avessi chiesto il passaggio a questa ragazza bionda come la chiama lui e resta da sapere se veramente lui è sceso o meno da quell'auto e ciò che non è chiaro sono le due versioni che sembrano emerse c'è il cognato che è andato a trovarlo in carcere che dice chiaramente lui mi ha detto di essere sceso quasi subito quindi prima delle quattro a via Forelle perché era allarmata dice che aveva ricevuto una telefonata poi dice che era seguito da una macchina per cui lui era sceso dalla macchina e poi era andato a piedi a casa di questo cugino attenzione e questa è una versione detta chiaramente dal cognato mentre invece precedentemente l'avvocato di Garulla aveva fatto intendere all'uscita dal tribunale di esame che la discesa dall'autovettura fosse avvenuta diciamo dopo l'ultima sosta prolungata quindi dopo le 5 ora questo non si sa qualcuno ha detto sì perché era l'unico momento in cui poteva scendere dalla macchina non credo proprio che sia così i momenti di una ipotetica discesa dalla macchina sono tanti perché le telecamere stradali benché abbiano in qualche modo ricostruito il percorso tostuoso di quella notte però non hanno coperto tutto benissimo a un certo punto la macchina poteva fermarsi un attimo e lui scendeva per qualsiasi motivazione quindi non ci troviamo di fronte a una webcam che ti segue certamente poi tanti tanti episodi sono strani di quella notte cominciando dalla disattivizzazione del disattivizzazione del geolocalizzatore che è di per sé un elemento stranissimo perché è un qualcosa che avviene proprio in coincidenza fino a dopo la partenza dallo smart caffè quindi è un qualcosa di inspiegabile di inspiegabile con la dinamica perché se Alice non si era preoccupata di questa cosa fino ad allora perché lo fa solo adesso quindi ciò potrebbe far propendere per la versione che forse si sentiva controllata o seguita da qualcuno perché altrimenti non si può presumere che l'abbia fatto il galulle che come prima cosa appena entra in macchina toglie questa localizzazione allora si dovrebbe pensare a una conoscenza precedente perché uno che chiede un passaggio non è che la prima cosa che dice in macchina è quella poi soprattutto la situazione non è chiara perché perché ci sono come ci sono queste due auto oscure che intorno alle 4 di quella notte girano in quella zona appresso insomma nei paraggi dove è la macchina di Alice quindi nella zona di forse di concordia quindi a quell'ora di quei tempi è inutile dire no andavano al lavoro al lavoro ci si va ma nelle prime ore del mattino ma qua stiamo parlando in piena notte e quindi finché non si rintracceranno e finché non si faranno avanti i proprietari ed è ben strano che nessuno si sia fatto avanti mentre per le mito bianche che pure sono state individuate i proprietari diciamo si sono fatti avanti per queste due auto oscure invece non c'è nessuno che si è fatto avanti a dire si ero io che andavo a caccia a pesca o altro nessuno si è fatto avanti e quindi è importante sapere perché poi il cognato di un momento parla proprio di auto oscura che ipoteticamente seguiva la macchina di Alice quindi bisogna almeno almeno arrivare a questo punto qua di individuare queste due macchine di chi erano poi per quanto riguarda le mito bianche c'è una delle due mito bianche condotta anche da questo Said che a mio avviso pure bisogna verificare perché quando lui dice io stavo per fatti miei quella notte bisogna verificare come sicuramente sarà stato fatto però lui a un certo punto parla di Poggio Rusco dove lui stava andando a Poggio Rusco a fare dei lavori a una sua casa e ricordiamo che alle 4.50 mi sembra di quella notte è la ricerca fatta sul telefono di Alice Poggio Rusco quindi vedete tutte queste casualità non si sposano semplicemente dicendo che lui entra in macchina la uccide e le dà fuoco ci sono delle coincidenze molto molto particolari noi non dobbiamo cadere vedete noi non è che vogliamo fare i garantisti perché probabilmente io credo che può essere benissimo colpevole del tutto questo tunisino però ci sono dei luoghi comuni un po' da sfatare perché non c'è niente di peggio che il luogo comune perché ho sentito dire i tunisini i nordafricani sono tutti bugiardi tutti dediti alla droga non ci si può ragionare sarà così sicuramente però noi non possiamo ecco dire questa cosa in modo decisivo perché qua si gioca anche non solo con la giustizia da dare la verità da dare alla povera Alice Neri e alla sua famiglia ma soprattutto con la verità per cui si deve trovare il colpevole non un colpevole per quanto riguarda la versione del cugino cioè la versione di essere andato a casa del cugino e l'orario in cui eventualmente lui è andato a casa del cugino abbiamo sentito una specie di intervista volante a questo cugino che dice che lui quella notte non era a casa però dice un'altra cosa importante che pure penso sia stata verificata o che sarà verificata dice io non era a casa e conferma che Moameda a volte si recava spesso si recava a casa sua e però dice ci sono le telecamere che possono testimoniare quindi fa capire che nei pressi di casa sua ci sono installate le telecamere per cui credo che una eventuale andata di Moameda possa essere stata dimostralata dalla telecamera che dice questo cugino quindi se così fosse magari noi vedremo se è andato veramente se non è andato e a che ora è andato quindi pur a che ora è andata via la mattina potremmo sapere tante cose ora la cosa ancora dubbia su questo fatto qui è anche l'atteggiamento di questo Moameda che è un atteggiamento certamente singolare perché si parla tanto di fuga però dato che lui è rimasto comunque per otto giorni e sono tanti otto giorni a via Vallarta poi è andato in Francia ed ha postato anche delle foto sui social quindi un atteggiamento veramente da non capire la mia conclusione per il momento è che innanzitutto dovremmo sapere qual è la versione ufficiale io ho sentito anche ore 14 in cui si fossilizzano sul sul fatto che Moamed sia sceso a via a via Mazzalupi verso le 5 e un quarto e dicono è impossibile doveva fare tre chilometri per i campi per andare a casa del cugino e passano questo come la verità l'unica verità l'unica cosa detta da da Moamed ed in effetti se fosse così sembra cosa incredibile perché poi sarebbe scesa via Mazzalupi a poche centinaia di metri da casa sua e doveva invece fare circa 2-3 chilometri per i campi pure per andare a casa del cugino però non hanno tenuto conto perché io a ore 14 non ho sentito questo di quanto detto dal dal cognato dal cognato di 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 Mohamed quello là che è andato a trovare in carcere che dice lui è sceso dopo poco dalla macchina a via forelle perché c'era una macchina che li seguiva ove mai così fosse secondo la versione del cognato scendendo invece a via forella dove dice lui è sceso poi è rimasto nascosto un po' e poi è andato quindi diciamo queste le 4 da via forelle fino alla casa del cugino sarebbero insomma poche centinaia di metri diciamo 500 metri e sarebbe più o meno una cosa anche credibile perché la casa del cugino sarebbe molto più vicino alla casa sua però questa alternativa io non l'ho sentita dire a ore 14 con grande meraviglia perché è una dichiarazione fatta apertamente dal cognato in tv dice lui è sceso dopo poco mi ha detto che lui è sceso dopo poco perché Alice aveva ricevuto una telefonata poi ha detto che aveva diciamo il dubbio che una macchina li seguisse forse poteva essere il marito addirittura ha detto una cosa del genere per cui lui poi è sceso quindi dobbiamo vedere innanzitutto qual è la versione ufficiale ora il tribunale di esame si è espresso però non pensate che sia il tribunale che ha deciso la colpevolezza del galù non è così ha deciso soltanto che ci sono le esigenze cautelari perché ci sono tanti indizi è vero ma c'è sicuramente l'esigenza cautelare del pericolo di fuga ed è l'unica esigenza che ci può essere perché non ci può essere inquinamento di prova né la reiterazione del reato per cui il pericolo di fuga è effettivamente notevole perché queste persone sappiamo che sono un po' girova che vanno in tutta Europa per cui figuratevi se lui volesse far perdere poi le tracce le farebbe perdere in maniera pressoché definitiva e quindi sono d'accordo che era inevitabile che che insomma capitasse così quindi io diciamo spero che la situazione si definisca però l'ultimo l'ultima osservazione che voglio fare e che voglio fare insieme a voi è questa che a parte due sono i grandi enigmi a parte tutto il resto che ci siamo detti ma l'enigma come detto prima del geolocalizzatore disattivato ma un altro grande enigma che vorrei una risposta con voi condividere questo pensiero il fatto del cadavere nel posto a bagagli cioè questo è qualcosa che mi frulla per la testa da giorni cioè un galù che porta la macchina diciamo alle 5 e mezza alle 6 via griffona lì per darle fuoco con l'olio e tutto credo che il cadavere salì in macchina cosparge tutto da fuoco e se ne va non capisco qual è la motivazione la logica la razio di prendere il cadavere di metterlo nel porto a bagagli e portare fuoco alla macchina anzi sarebbe stato anche peggio perché un cadavere nel porto a bagagli potreva anche essere parzialmente protetto ecco da questo porto a bagagli chiuso e quindi non bruciare bene mentre il testo della macchina più aperto avrebbe bruciato meglio quindi era anche un pericolo fra virgolette per l'assassino questo quindi qual è la razio di mettere il cadavere nel porto a bagagli io ho pensato che l'unica razio potesse essere quella dell'accensione della macchina di bruciare la macchina in un momento successivo cioè l'assassino ha ritenuto portando la macchina lì di collocare il cadavere nel porto a bagagli perché per evitare che anche casualmente qualcuno nella mattinata vedendo la macchina passando le vicine potesse vedere il corpo dentro per cui manca anche la certezza di quando la macchina bruciasse qualcuno dice una persona dice io ho visto il fumo che veniva da là la mattina molti altri dicono no per cui se veramente magari bruciava dal pomeriggio o dal tardo pomeriggio si potrebbe anche ipotizzare che l'accensione possa essere avvenuta nel pomeriggio e questo è dirimente cioè questo veramente farebbe la grande differenza perché vorrebbe dire che qualcuno è andato di pomeriggio ad appiccare il fuoco e quindi questo è importante questa cosa qui qualcuno è andato di pomeriggio a fare tutto il servizio dell'olio o della benzina non è andato di mattina e quindi bisognerebbe vedere quei movimenti di quelle ore lì e poi quindi cadrebbe pure il fatto che qualche testimonio dice lui la mattina aveva gli indumenti insomma con qualche macchia d'olio eccetera quindi questa è un'altra cosa da verificare e credo che gli inquirenti insieme pure con l'avvocato poi man mano le cose verranno fuori però io credo che ancora non sia per niente chiara tutta questa situazione quindi questo per il momento grazie un abbraccio a tutti quanti voi seguitemi sempre e alla prossima grazie 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 grazie